Stefania Trimboli, un momento di pausa forzata, un momento particolarissimo che però non riguarda solo voi ma riguarda un po' tutti. Come ho detto con le due compagne e col coach, forse la cosa più difficile è gestirvi mentalmente perché ormai non giocate quasi da un mese. Sì, sicuramente è un momento difficile perché allenarsi è tanto senza sapere quando si disputa la prossima partita. Sicuramente non è facile mentalmente, ci stiamo provando a rimanere concentrate, però effettivamente è un momento difficile non solo per noi ma per tutta Italia, quindi proviamo a rimanere sul pezzo e ci stiamo allenando per la prossima partita. Invece noi proviamo a fare un recap della stagione fino a questo momento che tra l'altro ha visto voi non finire ancora il girone di andata. È una stagione positiva, ci sono le fanerette conquistate. Tu come la valuti sia da un punto di vista personale che da un punto di vista di squadra? Facendo un bilancio possiamo essere solo che contente. Siamo andate in casa di Bologna, abbiamo vinto a Bologna, abbiamo vinto in casa nostra contro Venezia, quindi abbiamo portato a casa delle partite importanti. Sicuramente dobbiamo riconfermarci, o comunque sarà difficile riconfermarsi, ma cercheremo di farlo e il campionato è ancora aperto, non si sa mai cosa può succedere e speriamo di ricominciare presto. Speriamo di ricominciare presto e speriamo anche di vedere queste fanerette di Coppa Italia che è la prima volta che la Magnolia le disputa per quanto riguarda la Serie A1 e probabilmente se io fossi l'allenatore di una squadra vostra contendente avrei paura a incontrarvi perché siete la cosiddetta classica mina vacante, insomma un po' quello che in Serie A potrebbe essere del maschile, un brindis in Sassari degli anni scorsi. Lo spero, guarda, lo spero che tutti gli avversari e comunque tutti gli allenatori ci considerino un po' la mina vagante di quest'anno, come può essere Lucca una mina vagante e perché no provare a fare qualche colpaccio, mai dire mai.